Il tappeto dalla preghiera. No, perché così non si rovina. Era su sulla scala per non rovinarla. Quindi questo? Questo scaviamo lì e buttiamo dentro. Sei sicuro? Eh, se non tira lui, tira insieme. Dai, tutte e tre. Dai! No, lui riesce. Perché lui faceva il carnivo. L'unica per uscire facile è qua. E da qua ti giri, uno, due, e salti fuori. Ma perché sono gli occhi aperti? Cammina. E quello è più facile. Non sei venuto su dalla salita lui qua. Lo troviami in acqua. Beh, di là sono salito a piedi. Parti da lì e vai su. Sotto là ci sono andato, come Indiana Jones, quando c'era dentro l'acqua. Era sotto il ponte. Eh sì, vado sotto lì quando fiove. Te dalla vita non so cosa fai. Eh, è un problema uscire di lì, eh, giovani. Uno che piove, ma sotto lì con il ponte lì da dove stia. L'acqua arriva quasi giù. La giovane era tante volte. Devi vedere là cosa c'è. No, scusami, eh. Se esci di lì dove andiamo? Eh, di lì. Eh, vado in strada. Dobbiamo uscire da qua, eh. No, ti ho fatto la sciapola per le spine. Cazzo, ho pulito lui l'altro giorno. Sì, infatti vedo. No, fino a qua non è arrivato. Allora. No, qua non mi fiso. Ma è una stupidata, eh, Marco. Però non potrei cadere di là. Ma va. Massa. Dovete togliare un po' di piante qua. L'unica cosa è che andrà su diritto, guarda che c'è tutta la ghiaia. Vedete che parte vai su. No, di lì. Eh, andiamo di qua. Perché se puliamo di lì usciamo dove siamo usciti. È uscito l'Andrea di là, ascolta. Dopo la pianta, giusto? Esatto, giri e usciamo di là. Che sicuramente è meglio.